Grazie a tutti Siete pericolosi per voi e per gli altri Ma si capisce questo di DL2? Ma cosa, ma si, è un linguaggio che non capisco le vostre domande Non capisco veramente Successore di Rezzi di chi sarà, 5 Stelle? Ma non capisco il vostro linguaggio, veramente, faccio difficoltà Non avete capito come è nato il movimento, che cos'è il movimento e dove va a finire il movimento Se non cambiate le parole, io non ho le risposte con le vostre parole Non ci sono più come mondo nel vostro mondo Cercate di capire Che parole dovremmo usare? Cosa si dirà? Ma stai cementando la portiera La stai cementando Scusa, non voglio essere maleducato Però non capisco le domande Veramente non capisco le domande Non lo dica con le parole su